... ... ... sono le 22 reti subite decisamente peggio di tutte le prime 7 squadre. Scruli e Defrae vanno nelle scadenze e questo è un aspetto da non sottovalutare. Il portiere urlano deve riprendersi da un mondiale amaro per l'espulsione della Nazionale del Camerun. Un aspetto preoccupante considerando che ha 100% della tua squadra. Report di Asso Ambiente che prende in considerazione l'analisi che arriva. Un anno pieno di amore e tante piccole. E' un numero. I complotisti predivigono i messaggi che si autodistruggono. Chi fa truffe con le criptovalute frequenta le chat dei videogiocatori. I semplici bufalari invece sfruttano il passaparola tra familiari, amici e colleghi. Dopo gli scandali del 2016, non c'è mai perché motore di ricerca hanno cominciato a cosa... E' un numero. E' un numero. Un numero. mi viene proprio. E che fai, Navida? Faccio l'impiegata, lavoro in una società di telecomunicazione. Eh, come fai? Tu invece che fai? Io ho un'azienda di tante d'olto. Eh? L'ho fatto tutt'altro, Navida. E che fai? Ho cominciato come geometra. La mia strategia per questo guapo. Il presente programma è vietato ai minori di 14 anni. Sì, tesorino, scegli il collare quando vorresti. Questo guapo. Sì, tesorino, scegli il collare quando vorresti. Sì, tesorino. Grazie a voi. Continuate a chiamarci alla 02-25-15-15. Mandate un vocale al 378-378-115. E per gli auguri, io dico no. Che meraviglia. Tra l'altro, allora tu la devi smettere di spezzarmi. Questo desiderio che ho. Io sì, ho un sogno. Hai un sogno? No, 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 guardaselo. No, no. Oh, che deliziosa giornata Oh sì, mio amore, sapeva venire una catastrofe Gomas, sai che i disastri ambientali mi rendono estremamente felice Certo, cara Oh, lui, nascerò io Oh, ma no Oh, ma no Ok, cosa fai? Non ciò che stava nel mondo Quando ci stavamo le danno Successo Che comunque anche nei momenti veramente complessi Perché comunque è per una bambina lasciare la scuola Lasciare la città Lasciare la propria casa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti